Dopo la lunga riunione tenutasi questa mattina tra i sindaci e i vertici della sanità regionale e sulla base della lettera del servizio igiene e sanità pubblica territoriale, è stata presa la decisione di chiudere le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado nei 31 comuni umbri che presentano una maggiore incidenza di casi covid. Da domani martedì 2 febbraio fino al 14 dello stesso mese saranno quindi sospese tutte le lezioni in presenza dalle scuole elementari a salire. I sindaci si adeguano seppur continuando a nutrire perplessità sulla forma e sul merito alla decisione presa dalle autorità sanitarie regionali si legge nella nota diramata dai sindaci. Dopo la prima lettera di semplice invito a valutare la possibile chiusura delle scuole inoltrata due giorni fa dalla presidente Tesei i sindaci avevano fin da subito ravvisato dubbi sull'eventuale inibizione delle attività didattiche in presenza. Senza l'utilizzo della formula dell'ordinanza regionale così come più volte richiesto dai primi cittadini ma con il meccanismo di richiesta di emissione di ordinanza comunale l'autorità sanitaria regionale nel primo pomeriggio ha trasmesso ai comuni l'indicazione con cui impone la sospensione dell'attività didattica in presenza per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per la durata di 14 giorni a partire da domani. I sindaci dei 31 comuni coinvolti stanno dunque provvedendo alla pubblicazione delle nuove misure anche al fine di dar seguito alle azioni che l'autorità sanitaria ha individuato per prevenire il rischio di aggravamento della situazione epidemiologica e per scongiurare l'ingresso della regione ubria in zona rossa.